Inizia un'altra conferenza stampa, e qui giochiamo in casa perché siamo tre amici. Allora, Coupon, regia di Agostino Ferrente, con Andrea Satta, protagonista, ma non solo, perché poi ci sono delle piacevolissime sorprese all'interno di questo piccolo film, che adesso è la prima domanda che farò ad Agostino, come nasce? Nasce, scusa Eppa, magari poi mi alzi e mi dai una bottigliata in testa di fiuggi, faccio un po' di pubblicità occulta, nasce come una videoclip o nasce invece con altri intenti? Nasce come un pretesto per dichiararsi l'amore fraterno e diciamo artistico, fermiamoci a questo per ora, tra me e Andrea che è un caro amico e sì, doveva essere un videoclip, avevamo già condiviso un'esperienza simile una quindicina di anni fa con un'altra canzone di Andrea Satta e di tutti i suoi Ted de Bois, che era Alfonsina e la bici dedicata alla prima donna ciclista che nel 1924 aveva concluso un giro d'Italia pur essendo donna, all'epoca molti maschi erano al fronte e per interpretare Alfonsina avevamo pensato a Dammar Guitac perché anche lei è una che non temeva la competizione maschile in un mondo patriarcale. Ecco, dopo tanti anni contenti di quell'esperienza che aveva coinvolto anche il compianto amico Sergio Staino, diciamo papà spirituale di Andrea che ho avuto anche io l'onore di conoscere e di cui sono diventato amico negli ultimi dieci anni di vita e insomma Andrea mi ha proposto, mi ha fatto sentire in anteprima un album meraviglioso, Andrea mi dispiace ammetterlo, però veramente ci sono dodici canzoni bellissime, tra cui una che si chiama Bellissima di nome di fatto, dicendo dai rifacciamo questa cosa, facciamo un videoclip, io non sono un videocliparo, sono... Quanto ci potremmo mettere? Sono un grande, sì, esatto. Un paio di settimane? Non sono proprio, non è la mia, non è le mie corde fare i videoclip, sono sostanzialmente un dilettante e lo dico non per finta modesta ma perché davvero, anzi col complesso di superiorità, perché davvero credo di aver fatto sempre nella mia vita cose solo per diletto e mai per altre ragioni, quindi... Allora sei un fortunato, non sei? Assolutamente. Privilegiato. Assolutamente, potremmo dire anche un amatore, nel senso che faccio le cose amatoriali per amore e tra queste cose c'era quest'idea qui, poi ci siamo lasciati prendere la mano e doveva essere un videoclip della durata della canzone tre minuti, dura tipo venti minuti. E ora mi nasci il sequel. E quindi, come dire, io per darmi un tono dico che è un mini musicarello semi-muto. C'è gente vicino a te che l'ha definito mini colossal, poi si è resa conto che mini, comincia ad essere poco, mini-midi. Vabbè, insomma, poi devo dire, insomma, Andrea ha sempre percorso le vie volutamente un po' semi-marginali cercando sempre un tipo di espressioni musicali che non seguisse il mainstream. E allora, come devo dire, mi sono divertito a pensare a dei personaggi che potessero anche aiutare a superare questa barriera che ormai i discografici usano per valutare la qualità dei progetti? Secondo te qual è la domanda che fanno i discografici per sapere se tu hai fatto un bel disco o meno? Le domande faccio io, Agostino, non mi mettere nelle... No, infatti, qual è la domanda? È una risposta un po' da carabiniere. Qual è la domanda? Quanti follower hai? Esatto, adesso, ma credo che questa cosa ormai sia aderente a qualsiasi tipo di attività... E noi, volendoci male, abbiamo scelto un politico di grande prestigio, ma del PD, e quindi i follower sono... Però adesso sveliamola, Andrea, vuoi svelare tu le partecipazioni straordinarie di questa videoclip? Dai, chiamiamola... Sì, sì. Allora, intanto non voglio rendere pampe e focaccia, ma chiaramente il desiderio di lavorare con Ago è stata la base di tutto. Perché io sono innamorato del suo selfie, delle sue cose belle, dell'orchestra di Piazza Vittorio, e insomma mi piaceva fare questo debutto solista dopo 30 anni di Ted de Bois, chiamando Agostino ad essere un po' il primo segno che mettesse in acqua la nave. Poi ci siamo imbattuti in alcuni personaggi meravigliosi, con noi legati alcuni da amicizia di lunga data, come Maria Grazia Calandrone, una poetessa viscerale e intensa di cui amiamo con Agostino ogni verso, come Paolo Lombardi, il doppiatore di Hitchcock e di Jerry Lewis, che Agostino ha fatto recitare, come dire, chiedendogli con dolcezza, con amore, di trasformare anche il suo disagio fisico in un gesto artistico. E questo credo che sia un grande passaggio che va oltre anche il valore del film e anche oltre lo stesso Paolo Lombardi, forse un gesto di umanità per tanti, forse per tutti. E poi Milena Vukotic, che chi non conosce Milena Vukotic, Milena Vukotic, devo dire che mia moglie Timiso Arrapinto ha fatto una descrizione, secondo me, fantastica, la Audrey Hepburn italiana, io penso che sia veramente una definizione bellissima. È assolutamente plausibile e aderente all'immagine. E Milena ci ha detto, mi piace, venite a teatro, parlatemi. Gli abbiamo parlato dopo lo spettacolo in un teatro della periferia di Roma. Tutto bello, ci ha detto, è novembre, io sono libera a maggio. E noi siamo guardati, noi pensavamo di vedere tutto in poco tempo. Ma ti aspettiamo? È così, è passato, ci si mette tanto anche per questo. E poi, vabbè, poi abbiamo parlato, Staino sapeva di questo nostro cortometraggio, no, di questo nostro videoclip, che ancora era solo un videoclip, e Agostino ha detto, ci vorrebbe Bersani. E io ho detto, l'unica chiave per Bersani è chiamiamolo Sergio. E Sergio, non è che ha fatto finire la frase, ha alzato il telefono e ha detto, Pierluigi, ascolta questi due. E noi, chiaramente, ci adora, ci adorava, ma ci adorerà anche dal regno degli atei dove adesso sta. E Bersani si è innamorato dell'idea. Io trovo che sia bellissimo che Bersani non faccia il politico, ma fa l'uomo di tutti i giorni, fa l'uomo che lavora. E l'ha voluto fare, e Agoglio ha cucito addosso un personaggio che non è un personaggio, che è un uomo che vive la vita. Io trovo anche molto bello che si sia messo l'accento su una condizione troppo trascurata, che è quella che ci fa sentire ricchi e benestanti, anche se abbiamo un piccolo stipendio, che è quella di mangiarci la pizza a casa, mentre un disperato ce la porta con la bicicletta, nel freddo, sotto l'acqua. E magari anche un po' gommosa, e anche un po' scontenti noi che è gommosa e scontento il proprietario che ci ha messo cinque minuti in più. Beh, anche il fatto che Bersani si metta lo zaino da rider e porti la pizza dicendo che ha rischiato di essere travolto da un SUV, direi che è una lettura della realtà concreta, della condizione del lavoro oggi, che è questa, è quella della precarietà trascurata. Sì, lo sappiamo, ma non fa niente. Lui è una grandissima autoironia, si presta anche ad altri lavori precari, che sono quelli del commesso del supermercato, eccetera, eccetera. Poi chi ha visto il film lo sa. A questo punto chiedo se qualcuno dalla sala ha qualche curiosità, altrimenti con Agostino... Buongiorno, Carlo D'Acquisto, Cinecittà News. Il cortometraggio critica molto il capitalismo, il consumismo, inizia tutto negli anni 50. Vorrei capire da dove nasce l'idea di iniziare questo racconto, di farlo in bianco e nero, e di dare un pochettino questo tocco vintage al cortometraggio. Grazie. Intanto, una piccola precisazione. Andrea ha citato una parte fondamentale. Io sono un poco prolifico, ho fatto poche cose. Tra i tre titoli citati c'è un film che è un pezzo di vita, le cose belle, e l'abbiamo condiviso con Giovanni Piperno, di cui ci dovrebbe essere una conferenza stampa a seguire. No, ma è presente. E che, come dire, le nostre mogli sanno che siamo stati sposati, siamo mariti reciproci. Per quanto riguarda la domanda, anzi c'è anche il montatore, dov'è? C'è anche il montatore delle cose belle, Paolo Petrucci. Beh, quando ho ascoltato la canzone Coupon, che peraltro, come Andrea ci può confermare, non è l'unica dell'album che pone l'accento sul commercio globale, sui centri commerciali, ho subito immaginato quella location come un luogo che peraltro si presta proprio all'immaginario cinematografico. Poi io venendo dal documentario, avendo fatto spesso, in realtà ho iniziato con i corti di finzione, ma poi ho sempre cercato nei documentari di trasformare, diciamo, le persone in personaggi, perché la vita di una persona è noiosa, può essere noiosa, dura 24 ore al giorno, speriamo un numero sempre più lungo di giorni, poi il regista si assume la responsabilità di fare una sintesi poetica della sua vita, trasformando i suoi momenti, la sua quotidianità in qualcosa che possa avere a che fare col cinema, cioè far ridere, far riflettere, far sognare, creare suspense. Ecco, una delle cose che mi piaceva era raccontare questo personaggio come un novello Buster Keaton, con la licenza che ci siamo dati di farlo sorridere in un paio di situazioni, perché Buster Keaton nel suo film non sorrideva mai, e noi ci siamo presi questa piccola licenza, uno spiraglio di ottimismo. Ma perché Buster Keaton non era disponibile, oppure perché proprio Andrea era previsto per... Perché diciamo che lo abbiamo fatto vestire come una specie di Buster Keaton, c'è anche una citazione di lui dietro le sbarre, come in una foto. L'idea era di creare un personaggio che vivesse la sua vita come un film in bianco e nero in perenne contrasto con la quotidianità a colori che lo assedia, e lui è un po' il personaggio che lui interpreta, citando il nostro amico e maestro Alberto Grifi, è uno che prima o poi gli somministrano la normalina per normalizzarlo, perché lui non riesce ad adeguarsi alle regole imposte dagli algoritmi, dal marketing, per cui come negli autogrill, quando tu entri sei costretto a fare un percorso che ti obbliga a vedere altri prodotti. Ecco, nei supermercati c'è questo, c'è la famiglia ideale, si usano parole retoriche tipo amore, felicità, famiglia. Se c'è una famiglia, ormai non esiste più la famiglia tra quell'arcobaleno, quella patriarcale, quella tradizionale, ecco se c'è un luogo dove la famiglia è perfetta, è il supermercato, perché è lì che tu devi comprare le cose che determinano l'icona della famiglia felice, da qui l'idea del coupon della felicità, e il supermercato in realtà non è un'invenzione contemporanea, e qui arrivo alla domanda. Abbiamo beccato negli archivi del Luce due cinegiornali che fanno venire i brividi, uno è uno splendido europeo, Chuck, del 1956, in cui al Palazzo delle Esposizioni di Roma si presenta il supermercato all'americana, il titolo è molto emblematico, Novità per le Massaie, e si scherza dicendo che lo speaker annuncia questa novità per cui le Massaie possono, pensa te, prendere i prodotti direttamente dallo scaffale come si farebbe in una libreria quando prendi un libro, in una biblioteca, però in questo modo le Massaie si potranno rovinare con le loro mani, ed è il concetto del carrello, che prima non c'era, perché prima era il commesso che ti serviva e ti dava il prodotto. Stiamo parlando del 1956, è l'altro cinegiornale del 1957 che fa ancora di più venire i brividi perché dice chissà, in un futuro lontano la cena si potrà ordinare da casa? Sì, infatti, e te la porteranno a casa. Quella è veramente... 70 anni fa hanno previsto i delivery food, il just eat, il rider, quindi hai l'impressione che non sono un complottista, però abbiamo usato anche un look, un mood distopico, uso questa parola abusata, nel cinema, ormai non sei nessuno se non fai una cosa distopica o di resilienza, vabbè, però in questo caso abbiamo giocato usando anche una musica distopica, la Blade Runner, perché in fondo l'impressione è che era già tutto scritto, cioè non è una novità, cioè già 70 anni fa era preannunciato il rider, e io poi non ho avuto molta fortuna, cioè non mi sono cimentato molto con gli archivi, ma immergersi in quel materiale, bisogna avere sette vite per amare e inebriarsi di tutte le meraviglie che trovi, cioè in un momento in cui siamo, come devo dire, assediati da una bulimia di immagini, lavorare di sottrazione, cercare di recuperare quelle che già erano state fatte e scoprire che hanno già detto tutto in maniera molto più poetica ed evocativa, forse sarebbe un buon lavoro per ogni giovane regista. Chissà se non sia un segno dell'età che passa, volevo aprire una piccola parentesi, perché io ho la stessa fascinazione nei confronti delle immagini del passato, però poi rifletto, forse è il fatto che l'età che passa, quindi è la nostalgia. C'è Luca Ricciardi, non so se è presente in sala, l'archivio del Movimento Operaio hanno creato addirittura un festival meraviglioso basato proprio su quello, c'è Vincenzo Vita che è il presidente ed Aurora, è veramente una cosa meravigliosa, sarebbe da bloccare tutti i registi per due anni a dire non fate più film, andate a riciclare vincuosamente le cose giusti. Il problema, insomma non voglio adesso aprire questa problematica, ma poi sono i costi dei film, dei repertori eccetera, che tu conosci molto bene. Ma Vincenzo ci farà lo sconto, no? Vabbè, grazie, grazie, lo prendo con una promessa. Volevo aprire una piccola parentesi, vi invidio molto la vostra amicizia con Sergio Staino, ecco questa è una cosa che... Nel mio caso è amicizia, nel caso di Andrea è parentela, cioè Andrea è il figlio illegittimo. Adesso non vorrei dirla troppo grossa, sicuramente fra noi c'era un rapporto meraviglioso, abbiamo fatto mille cose insieme, i giri d'Italia come inviati, scritto pagine, fatto viaggi, passata notte a parlare, a discutere su tutto, un grande polemista Sergio. Poi Andrea mi spiegherai come farai. Imperdibile. Come farai anche... Posso anch'io vantarmi di avere una cosa in comune con Sergio che Andrea non aveva, in questo ti scavalco, eravamo tutti e due profondamente stonati, anche se oggi potremmo dire col politicamente corretto, diversamente intonati. Ma lui aveva il difetto di cantare spesso, molto più di te. Poi Andrea ci spiegherà come fa a conciliare l'attività di medico con quella di cantante e tante tante altre cose. C'è qualche altra domanda in sala? Qualche altra curiosità? No. Allora, proseguo io e volevo chiedere a tutte e due. Poi chi vuole rispondere, risponde, perché tanto ormai siamo in un colloquio o tre amici, in un dialogo. Potevamo prendere una birra invece dell'acqua minerale. Cioè, ma una cosa che mi ha colpito molto è la... la biopoetessa che ruba la bicicletta al protagonista del clip. Ecco, questa è un'idea che vorrei sapere come scaturita. Questa me ne assumo tutta la responsabilità perché che parola a rischio retorica, no, poesia, è una parola monumentale, no? Allora, l'idea di abbattere il monumento era, per me, era irresistibile. E devo dire che Marian Grazia che per vie diverse ha collaborato con entrambi, si è prestata anche lei come ha fatto Bersani, l'hanno fatto tutti, senza leggere ascengiatura, senza così, senza rete. E alla fine lei che pure nel corto si adegua al linguaggio del marketing vendendo le pietre per due come fossero meloni o scatolette di pelati, alla fine pure lei in qualche modo cede il passo alle debolezze dell'umanità perché probabilmente l'attivismo poetico con l'attivismo poetico non paghi le bollette quindi probabilmente anche lei deve darsi da fare in maniera un po' borderline, diciamo. Però su questo fatto della bicicletta rubata a Maria Grazia alla Calandone voglio invece dire che Agostino è stato come dire un pre-documentarista cioè ha fatto il documentario credo correggetemi questi leggenti di cinema io no che il documentario come dire osserva la realtà magari la trasforma non so la guida verso il dopo ma in questo caso ha anticipato questo penso che sia un'operazione assolutamente nuova perché un anno dopo quella scena a me la bicicletta l'hanno rubata veramente ma una biopoetessa oppure no? Io mi auguro sei stato un biopoeta in questo caso comunque ero alla stazione di Frosinone mi stavo allenando perché l'estate 23 ho fatto un viaggio in bicicletta con mio figlio da Dresda a Roma dal campo di concentramento di mio padre fino a casa 1600 km a pedalare e la bicicletta era tutta attrezzata tutta pronta per questo viaggio scendo dal treno a caffè con gli amici esco non c'è la bici i carabinieri mi dicono non la troverai mai non è impossibile che la trova e alla fine invece è stata trovata questa bicicletta intatta esattamente come era prima perché quello aveva messo gli cerchioni in vendita su subito.it chiaramente io l'ho riconosciuta e questo si è fatto fare un mandato per cui si è innamorato della storia le ha raccontato del viaggio è una bicicletta mi serve speciale e ritrovare una bicicletta è impossibile ma ci sono stati due ritrovamenti della bicicletta uno reale della bicicletta mia l'altro nel film perché effettivamente la bicicletta la trovo lo stesso anche in questo caso perché c'è un incontro fortuito a Villa Gordiani dove questa biopoetessa passa e io la ricordo anche quella di tanta Roma proprio lì doveva passare perché è del tutto casuale quindi è il primo caso credo nella storia del cinema dove il documentalista fa cioè anticipa quello che succederà che giusta così ti puoi mettere pure questa considerazione come si può dire un futuro anteriore al documentario comunque ci troviamo uno storico festival del cinema e devo come dire facciamo coming out nel senso che poi un videoclip cos'è? è uno spot pubblicitario che deve far vendere un prodotto cioè se poi come effetto collaterale c'è un po' di ironia un po' di poesia io sono contento però l'obiettivo principale di questa cosa era far parlare di questa canzone credo che cioè per come forse anche troppo se ne è parlato perché come dire abbiamo non lo so insomma voglio dire Andrea non è Fedez non è Achille Lauro è difficile è difficile superare come devo dire queste queste gabbie del del mainstream musicale come per il cinema bisogna inventarsi qualcosa e lì devo dire che ho avuto dei complici che hanno assecondato però l'obiettivo era quello e poi mai avremmo pensato che un videoclip potesse addirittura finire in un festival di cinema mi sembra anche quasi di aver come si può dire di essere dei dei clandestini degli abusivi ecco quindi chiediamo scusa se abbiamo chiediamo che questo videoclip ha degli ingredienti che forse giustificano la presenza in un festival cinematografico allora mancano cinque minuti siccome poi l'altro giorno sono stato tacciato di togliere il microfono perché abbiamo i tempi ferrei se c'è qualche altra curiosità se no io ho un'ultima domanda per Agostino Andrea e poi ripeto ormai a questo punto scegliete voi chi risponde e prima mi avete accennato della poca disponibilità per un fatto lavorativo di Milena Vucotich io volevo sapere a questo punto come Bersani sia riuscito a conciliare le vostre necessità però della grande disponibilità di Milena quando è stata sul set sì no ma quello non avevo dubbi è stata commovente ma su quello non avevo dubbi però ha detto io finisco il teatro a maggio e poi arrivo eventualmente ecco invece la disponibilità di Bersani come siete riusciti a trovare questi pertugi di tempo anche lì ci siamo allora io sono abituato ho le spalle larghe nel senso che mi sono fatto la nomea di uno che ci mette tanto tempo a fare i film quindi per me aspettare sei mesi non era un problema non me ne frega proprio niente non ho scadenze diciamo c'è una canzone di un grande che è Bruno Lauzzi che dice ti senti solo con la tua libertà ecco nel cinema la libertà è un'arma a doppio taglio cioè da una parte non hai committenti che ti commissionano come fanno le piattaforme come fanno i delegati come fanno quelli che ti mandano le mail qua devi tagliare qua devi cambiare cioè che ti snaturano il tuo approccio registrico quello è il vantaggio non averceli però poi ti senti solo perché non c'è nessuno dice allora è pronto non interessa a nessuno quello che stai facendo se non a te stesso quindi in questa logica pure aspettare la disponibilità di un politico noto che è ultimamente più opinionista che finisce nelle trasmissioni lui non ha nessun incarico politico lui dice che fa la militanza va in giro a fare i comizi non so Vincenzo sto dicendo una cosa giusta lui non credo che abbia ruoli istituzionali di segreteria eccetera quindi lui è proprio va in giro a fare quello che dovrebbero fare i giovani però sta sempre di padre nobile esatto ecco ed era il capo glielo diremo comunque ci siamo ci siamo adeguati alle sue disponibilità e abbiamo avuto abbiamo in qualche modo aggirato la sua deliziosa bodyguard che aveva il ruolo di dire no a qualsiasi domanda prima di farti finire la domanda cioè lui diceva no qual è la domanda comunque la risposta è no e quindi l'abbiamo aggirata e non abbiamo avuto il coraggio di lui di dire che gli avremmo fatto indossare una parrucca no ma perché ragazzi mettetevi nei panni adesso a parte gli scherzi cioè era ovvio che lui sarebbe finito sui giornali sbertucciato cioè lui pure ha detto chi se ne frega lo voglio fare ma noi non è che abbiamo proposto il naso da clown no no ho letto ho letto non so se Fiorello o come si chiama striscia la notizia o insomma uno di queste trasmissioni dice gli hanno messo una parrucca bionda che poi in un film in bianco e nero il biondo cioè è una parrucca bianca da settantenne che ha quel colore di capelli cioè la parrucca bionda ti fa pensare una drag queen e tra l'altro secondo me tutto dissolto poi dallo sguardo ironico di Bersani che è veramente veramente è un film me lo autorecensisco e non si dovrebbe fare un film amaro non è assolutamente che parla della solitudine insomma allora bene coupon grazie Agostino Ferretti Spotify ho controllato lui non lo sa sì infatti visto che su Spotify c'è già una canzone che mi piange il cuore di non aver potuto metterci le mani lì ma i prossimi dieci anni lui ce l'aveva impegnati che si chiama Bellissima ed è bellissima di nome e di fatto ce ne sono tante altre non so se coupon è già su Spotify dico Spotify ma anche Amazon Music insomma tante però c'è anche un vinile meraviglioso il disco esce domani il disco esce domani Andrea Satta o Té de Bois Andrea Satta è una licenza premio dei miei amici di una vita e con loro continuo a fare il palco a pedali i concerti su Ferre gli anarchici e le canzoni sulla bici ma questo disco è il mio primo disco solista che ho arrangiato e prodotto con Giorgio Maria con Demi un polistrumentista fantastico grazie 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 grazie